Un tragico incidente stradale si è verificato nella tranquilla cittadina di Gaggi, vicino a Tormina, dove un uomo di 44 anni ha perso la vita in uno scontro tra un'auto e una moto. La vittima è stata identificata come Rosario Cardillo, residente a Mascali, in provincia di Catania. L'accaduto si è verificato nella zona centrale del paese, quando l'uomo in sella a una moto KTM stava dirigendosi verso Graniti e ha impattato con un'auto che si stava immettendo sulla statale dalla via Roma. Le forze dell'ordine intervenute sul posto hanno subito constatato la gravità delle condizioni del motociclista che, nonostante i soccorsi rapidi, è giunto senza vita all'ospedale di Tormina. Alla guida dell'auto coinvolta nell'incidente c'era una donna, residente a Gaggi, che ha riportato gravi ferite ed è stata trasportata ad urgenza allo stesso ospedale. Per lei è stato necessario un delicato intervento chirurgico per l'asportazione della milza.